Musica 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 Anciuman Gruassan, volkente ati Zimba Rerde Disa boch Zimba Rerde chienge zogetou atz 25 von April Am birgtegen tage vor distorgio von Belichland und vor da ganz Europa Der Tage wo dar Liberation Der Tage wo da hat auch gehörte der traurige Storge von Faschismus und Nazismus in Belichland In sel Tage defatte von Jahr 1945 die Amerikei d'Inglesean gehälfte von Partigier so ingerifte a Milon wo des gestunter da Repubblica wo Chalot, una so unter in Nazisten una in Faschisten Ma die Storge wo lestens zwei Jahre wo zbote Belkriege von 23,5 und von Partigier in unserer Provinz Votria ist nicht gleich der Storge von Belichland Asper Barbissam von 8 von Erbesmonat September von Jahr 23 der Nord Belichland ist gong unter Muscholini und der Sud unter in König und unter in Alleati Ausbas die Provinz Votria und der Selvo Poazan die Provinz Vot Belun und der Friuli diese Lentere defatte so che ho gepuntet in Teutschland un gehoast Alpen vor Lande Der Studius Vot Museo Storico del Trentino dar Lorenzo Gardumi wo da Hat Wilge Arbat etatistorgia von 3 und der Partigier und Wohzel Giardach hat Geredet Pitus E' l'estate del 44 il momento appunto in cui anche localmente anche sull'Altopiano si registra uno sviluppo della guerra partigiana e non a caso nell'estate del 44 che avvengono i principali rastrellamenti antipartigiani che si concluderanno nel settembre successivo con il famoso ahimè rastrellamento del grappa in una di queste grandi operazioni antipartigiane che i tedeschi creano organizzano per debellare un movimento che è attivo un movimento partigiano che è militarmente attivo e bisogna pensare che siamo nell'estate del 44 giugno 44 e nelle settimane successive in cui c'è la ritirata tedesca dalla linea Gustav e poi ci sarà il riposizionamento sulla gotica sugli appennini tra il settembre e ottobre del 44 ma nell'estate del 44 i tedeschi credono ipotizzano anche una ritirata dell'esercito tedesco dalla penisola quindi hanno necessità di liberare le retrovie da qualsiasi presenza militare e partigiana chiaramente che possa impedire questa ritirata ciò che accade su alto piano è di fatto questo Malgazzonta è rientra in una operazione di più ampio raggio operazione Belvedere ed è l'episodio più emblematico di questa volontà da parte dei comandi tedeschi di imporre il movimento partigiano sulla difensiva quello che accade a Malgazzonta con la fucilazione di 17 persone 14 partigiani delle formazioni garemi più 3 malgari incappati per loro sfortuna nel corso del rastrellamento è sintomatico di questa volontà repressiva e preventiva anche da parte dei comandi tedeschi è chiaro che il rapporto tra popolazioni partigiani e tedeschi è un rapporto difficile complicato e non sempre i partigiani che diciamo così chiamiamoli che vengono da fuori e quindi i partigiani vicentini trovano supporto soprattutto a seconda del periodo chiaramente trovano supporto nelle popolazioni delle comunità locali che li ritengono molto spesso degli intrusi mentre l'occupazione tedesca è brava se così possiamo dire a camuffarsi riprendendo una sorta di nostalgia presente nella comunità trentina per quello che era stato invece il passato asburgico quindi bisogna sempre tenere presente le modalità dell'occupazione nazista se si vuole dare la giusta la giusta dimensione al fenomeno resistenziale trentino mio nome mi ha detto al capo dei partigiani mi ha detto Rocco della Garibaldina dell'ACAREMI della Vangioviana mi ha detto che ho un'onorato del belico e il difendere del belico e non del governo belico questo momento se è che quando mi ha detto mi ha detto che si sono un po' meno è meglio e un po' di più di più. Abbiamo avuto un po' di più, quello che si tratta di fare la partita. C'è un po' di dolore e un po' di dolore. Questo è il ragazzo di Marcos Scela, dove abbiamo ascoltato solo un po' di giardà. Iniziamo al prossimo, e nel 17. di April, è un ragazzo di Marca, che sono stati in l'interno di unterstütza la comunità di Slow Food di Simbar Khurpo. In questo caso, circa 20 banche sono stati in un'automobile di la comunità di Slow Food di Simbar Khurpo. In questo caso, sono stati in un'automobile che sono stati in un'automobile e che sono stati in un'automobile. Per esempio, in regola di Covid, in più sono stati in un'automobile che si è venuto in un caos di Cagel, e che si è venuto da Peter Mirch, in cui la firma Lenzi. Si è venuto in una marmelada di Brucheren, in cui si è venuto in un salto di Valentin, in cui si è venuto in un padre di Wanderlust, in cui si è venuto. In Luzerno si è venuto in Giulia, in cui si è venuto in un castello, in cui si è venuto in un'amica. Il Comitato, che si è venuto in un'applicazione, si è venuto in una firma di Vigolona. Siete tutti gli altri frutti, che si è venuto in una marmelada. Buongiorno, in cui si è venuto in un'applicazione da 22 maggio per il lavoro. Dopo tre nuove in countries, invece che si è venuto in un'applicazione di St. Corriere, e hanno sottosti ancora a meno di un vaccino anti-Covid, e quindi hanno hanno fatto molti altri vaccini. Fanno la natura 3 volte di 7, e 3 volte di tutti i cardinali e di tutti i cardinali, MAGMA. Un'altra domanda che i vaccini si pensano che è stato portato a un giro di 2-6 anni, ma si chiedono per avere un vaccino che si riuscita in CUP o anche online a un sito dove c'è la PSS. Il primo giorno è stato chiamato il prezio di Bintar, perché il prezio è stato sbagliato alle 3 di Zimbarn, Zunne e Cultura. Il prezio è stato chiamato il prezio dell'Università di Luzerno. Il prezio dell'Università di Luzerno è stato sbagliato a un testo a info.chill.luzern.it Un'altra domanda che ci sono già attraverso il documentazione di Luzerno, si chiedono a un curriculum vitae a info.chill.luzern.it Nel prossimo giorno, tra i metà tage del 30 avril. Il 6 di maggio, tra i tre tage, si chiedono online da un'ottima notizia dove c'è una grande banca di Natale. Si chiedono a leggere il rappresentante di Zimbar Corpone, tra i candidati di Roberta Cuell, dove si chiedeva, dove è stato sbagliato. Si chiedono che il prezio è stato sbagliato, dove si chiedeva, dove si chiedeva, dove si chiedeva, dove si chiedeva. in un'altra domanda. In un'altra domanda ci sono stati chiedendo foto o video di Luzerno, da Federico Penner ha scelto foto o video di Luzerno, in un'altra domanda. 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 Oggi siamo neppure, dove si chiedeva un'altra domanda. e dove si chiedeva, Lui è stato sbagliato o video di Luzerno, è stato sbagliato di castellano, dove si chiama la nostra domanda. www.pong.com Barchèma all'esterno gruas in a non d'ars menc voul userno bodasat gelat all'esterno gruas in Claudio Pedraz dara chattagehat draion sims eggiar un vodi sabocha vo dar simbarriere dei salsa nsiuman gruas vo matteovo Castellè Grazie a tutti.